Ben ritrovati! In questa lezione dipingerò la magnolia di Soulange. Il fiore, lungo 8-10 centimetri è disposto eretto sul ramo. La pagina esterna dei petali è violacea, mentre l'interna è bianca. Il fiore, lungo 8-10 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 Il fiore, lungo 9-10 Il fiore, lungo 8-10 Il fiore, lungo 9-10 Il fiore, lungo 8-10 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti